Vediamo come si fa per invertire un'animazione. Qui noi abbiamo già creato un'animazione di entrata. Se io vado a selezionare tutte le clip, premo U per vedere i keyframe attivi, vediamo ci sono i keyframe di entrata e ci sono anche quelli di uscita. Qui che cosa è stato fatto? Io adesso li cancello così lo rivediamo. Una volta che sono stati creati dei keyframe, io posso selezionarli. Lì purtroppo va fatto un livello alla volta. Seleziono, mi posiziono in un altro punto, li copio, li incollo. A questo punto con tasto destro posso fare fotogramma direzione inversa. Vediamo che è questo testo qui in alto che prima entrava e ora allo stesso modo esce. Ho copiato i keyframe e li ho invertiti. Ovviamente fare questo procedimento per ogni livello è un lavoro molto lungo. Per cui, seleziono di nuovo tutto e premo U, così chiudo. Decidiamo che a un certo punto la nostra animazione è entrata. Io ho tutto selezionato e premo Alt u accentata. In questo modo tronco tutti i livelli selezionati al punto in cui sono posizionato col cursore. Adesso, premo tasto destro e creo una precomposizione. Voglio regolare secondo la durata, quindi avrà la stessa durata e non voglio aprire una nuova composizione perché rimaniamo qui. Allora, cosa che posso fare? Una volta che la mia animazione è entrata, per farla uscire, io potrei duplicare il livello, portarlo avanti, vediamo che il livello eccede la durata della mia clip. Quindi una cosa che potrei fare, per esempio, è agire su questo pannello. Se non ce l'avete aperto, il pannello si apre con questo bottone. Potrei posizionarmi all'inizio, selezionare attacco livello. A questo punto se io agisco sulla percentuale, li riduco entrambi proporzionalmente. Per invertire l'animazione, si possono fare una serie di cose. Posso selezionare il livello che voglio invertire, vado su tempo, livello in ordine temporale inverso. Compare questa seghetta sotto che sta a indicarmi che il livello è stato invertito. E quindi avremo l'animazione che esce. Un'altra cosa che posso fare è andare ad agire direttamente sulla dilatazione. Io qui potrei scrivere meno 100 e di nuovo ho ottenuto la stessa cosa. Il livello è stato spostato e c'è una seghetta che mi indica che è stato invertito. Quindi posso riportarlo a misura. E nuovamente potrei posizionarmi qui. Ora, l'in e l'out point sono stati invertiti per quando io ho invertito il livello. Per cui io a questo punto gli dico di mantenere fisso lo stacco livello, ovvero questo che sembra l'in point ma non lo è. A questo punto se vado a ridurre la percentuale, vediamo che l'out point che per noi è l'in rimane fisso. E invece quest'altro punto si sposta, per cui io posso ridurlo all'interno della composizione. E adesso casca giusto. C'è un'altra opzione tuttavia, che consiste nel selezionare il livello, sempre la precomposizione con la nostra animazione, sempre da tempo. E' possibile dirgli attiva modifica tempo. Vediamo che la prima cosa che è successa è che il livello ora riempie tutta la composizione. Ci sono dei keyframe che sono il nostro modifica tempo. Che vanno da 0 al punto in cui eravamo posizionati col cursore. A questo punto io mi posiziono un po' prima, perché ci sono un paio di keyframe di stacco. Creo un keyframe a questo punto, questo lo cancello. Mi porto un po' avanti, ne creo un altro. Dopodiché mi porto ancora un po' più avanti e gli dico 0. Abbiamo ottenuto esattamente la stessa cosa, ovvero qui è il nostro tempo normale. Questo è tempo congelato, infatti qui il tempo non si muove più, mentre prima si muoveva. Qui il tempo scorre all'indietro fino a tornare a 0. Questi sono tre modi di invertire un'animazione.